domanda amnon il creatore ha creato l'inclinazione al male quindi da dove viene l'inclinazione al bene da dove sorge l'inclinazione al bene se lui ha creato l'inclinazione al male da dove viene l'inclinazione al bene non c'è inclinazione al bene amnon chiede noi sappiamo però che l'inclinazione al male è stata creata da dove viene l'inclinazione al bene rab disegna voi siete noi siamo inclinazione al male inclinazione al male e al lato di questo c'è un'immagine si chiama creatore allora tu inizia a ricevere da lui ogni tipo di influenza in ogni influenza che ricevi da lui c'è un ego speciale per mezzo di questa influenza voi di questa influenza tu senti te un negativo un meno ti senti male e anche senti che al suo lato e arriva un più un positivo e lì è il bore dal bore positivo e la voce è la forza della tazione e il negativo è la forza di recessione a partire da questo poi iniziate a trasformare l'inclinazione al male con l'inclinazione al bene e così piano piano una parte un'altra parte un'altra parte fino a quando completamente tutto si trasforma in inclinazione al bene quindi che cosa succede con l'inclinazione al male che c'era prima si e quindi che succede che l'inclinazione al male che c'era prima deve rimanere deve rimanere e riceve una copertura dell'inclinazione al bene e che che inverte la creazione perché d'accordo con l'inclinazione al male rimane comunque un creatore e e con l'inclinazione al bene arrivi a assomigliarti al creatore assomigliate al creatore c'è una differenza tra i due e però questa è la sensazione della realtà chi sei tu un'inclusione dei due domanda e continuo ho capito la spiegazione però io voglio domandare perché il creatore mi manda l'adazione perché lo fece in proposito perché se l'inclinazione sia che l'insinazione al male si inverte al bene è una copia diventa una copia questo si chiama creato perché è opposto al creatore quindi questo creato vuole avere la stessa perfezione che a lui questa è la correzione sopra di questo grazie grazie grazie